Oh, ascoltami qua, se tre mesi che te me che mola, come nasco resa aranza, pausa, dopo un mal da panza, ho detto pausa, grazie all'uno passo d'acqua, anche all'ucernario, forse e pensava che a fasesse solo risparmiare fatica, invece no. Se patìa ma, descazze. Grazie a tutti. 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 Tutto Manuel Putin. Grazie a tutti. Grazie a tutti.